stati generali del turismo pesaro progetta il suo 2022 autobus soppressi adriabus al lavoro per il rientro alla normalità cinema sabato c'è il trentatresimo fano film festival sport e la vl presenta banchi little service la sua champions league a rimini buona serata e benvenuti al nostro telegiornale oggi è giovedì 21 ottobre e apriamo parlando degli stati generali del turismo che si sono conclusi poco fa al cantiere rossini di pesaro convogliando un grande momento di confronto annuale fra politica associazioni e aziende del settore sulle prospettive del 2022 di un comparto centrale per l'economia del nostro territorio tanti protagonisti e tanti interventi raccolti dal nostro paolo pagnini che potrete anche vedere in uno speciale di approfondimento televisivo che andrà in onda su rossini tv la prossima settimana intanto però ascoltiamo l'analisi del turismo di pesaro da parte del sindaco matteo ricci i pesaresi sono sicuramente protagonisti di una strategia più i pesaresi sono accoglienti più i pesaresi stanno dentro una strategia complessiva che la città si è data e più la città si è attrattiva e competitiva questo è evidente ed è fondamentale questo appuntamento perché l'occasione annuale per mettere in piedi una strategia comune perché l'amministrazione pubblica può sicuramente spingere ma la differenza la fanno i privati la fanno gli albergatori i ristoratori gli investitori tour operator le agenzie viaggio quindi è chiaro che abbiamo bisogno di un momento di riflessione a maggior ragione dopo la pandemia nella quale escono alcune certezze alcune novità le novità sono che le persone cercano maggiormente lo spazio e quindi dobbiamo essere determinate ad andare avanti con le isole pedonali con un'organizzazione della spiaggia libera e anche in generale con la sostenibilità con l'idea che pesaro possa essere una città sostenibile quindi avanti tutta con la bicicletta con la bicipolitana con la promozione del parco san bartolo tutti elementi che vanno a rafforzare un elemento strategico che già avevamo così come dobbiamo riprendere l'elemento strategico legato alla musica e alla cultura perché pesaro città della musica e pesaro città candidata a città italiana della cultura del 2024 dimostrano che pesaro può diventare una delle città medie nella rete nazionale in grado di attrarre nuovi turisti perché prima o poi gli stranieri torneranno e quindi lavorare sul tema della cultura è un elemento scelto fatto qualche anno fa e che si rafforza ulteriormente con il post pandemia così come dobbiamo continuare a lavorare sui grandi eventi perché pesaro è una città che è fatta apposta per i grandi eventi grazie alla vitri frigo arena grazie all'auditorium scavolini che sistemeremo finiremo nei prossimi mesi e grazie anche a tanti impianti sportivi che sono predisposti per questo quindi continueremo a candidare pesaro per tante manifestazioni a iniziare dalle finale di febbraio che saranno sicuramente un momento di ripartenza importante ovviamente con tutte le precauzioni che il covid richiede quindi queste sono strategie confermate così come a mio parere confermato l'elemento di marketing legato alla motocicletta domenica Valentino farà l'ultima gara ci accorgeremo ulteriormente quanta popolarità mondiale c'è intorno a lui intorno alla motocicletta per questa terra ed è l'ulteriore dimostrazione che sul tema della terra dei piloti dei motori possiamo costruire un pezzo di turismo e non è un caso che il governo ha scelto pesaro come serie del museo nazionale della motocicletta che nascerà all'ex tribunale in via san francesco quindi alcune novità soprattutto legate allo spazio e alla sostenibilità e alcune conferme che ci devono far andare avanti determinati sperando davvero che ci possa essere un rimbalzo economico a partire dal turismo nei prossimi mesi cosa che già in qualche modo si è vista da un'estate che comunque ha dato dei segnali molto positivi. Nel telegiornale di ieri vi abbiamo mostrato la segnalazione di disagio di una residente di Borgo Santa Maria in merito alle corse degli autobus soppresse dallo scorso 15 ottobre cancellazioni che sono determinate dalla carenza di personale che si è creata a causa di oltre 40 autisti sprovvisti di Green Pass. Ad una settimana dall'inizio di questi disagi abbiamo intervistato la presidente di Adria Bus Lara Ottaviani per capire se ci sono le condizioni per tornare a regime in tempi celeri. Allora noi stiamo ovviamente procedendo con una riorganizzazione il più possibile utile all'utenza nel senso che si vogliono dare meno disagi possibili a chi utilizza il trasporto pubblico locale. Ovviamente in base a quelle che sono le nostre disponibilità di operatori di esercizio quindi degli autisti possiamo garantire il ritorno alla normalità del servizio. Le posso dare una notizia che per le corse festive della domenica che siamo stati costretti a sopprimere quasi totalmente poi abbiamo cercato di reintegrare progressivamente dalla prossima domenica dal 24 contiamo di ritornare al 90% del servizio quindi cercare di dare di nuovo il massimo e ritornare ad una copertura che sia totale. Nei prossimi giorni abbiamo già stabilito alcune corse che purtroppo sono soppresse e altre corse che vengono ridotte come orari ma progressivamente cerchiamo di ritornare al servizio completo in modo che ci siano meno disagi possibili. La problematica che fa nascere tutta questa questione è quella degli autisti senza Green Pass. c'è una situazione che sta rientrando almeno parzialmente? Noi dalla comunicazione iniziale che abbiamo avuto dagli nostri autisti che ammontavano circa a 40-45 che non avrebbero esibito il Green Pass a partire dal 15 di ottobre abbiamo avuto uno o due rientri nel senso che uno o due operatori di esercizio adesso sono ritornati a fare il servizio quindi rispetto alla cifra complessiva sicuramente si tratta di pochissime unità. Speriamo anche qui che progressivamente ci siano dei rientri dei nostri autisti assunti proprio perché sono fondamentali per il servizio. E avete tentato anche di programmare nuove assunzioni? Certo, ci abbiamo lavorato fin dall'inizio ma anche ovviamente prima che tutta questa situazione si verificasse. Stiamo procedendo con le visite attualmente, con le visite che determinano che sono fondamentali per le assunzioni. Stiamo procedendo attraverso il reperimento di autisti con le agenzie interinali ma anche con le chiamate dirette che in questa situazione di emergenza possiamo fare. Non è facile, io ancora non ho nuove assunzioni all'attivo ma stiamo procedendo ne abbiamo già fatte alcune quindi entro i prossimi giorni o la prossima settimana potrei avere almeno 4-5 autisti in più nel novero di tutto il nostro staff. C'è anche una notizia importante in prospettiva, quella di un cospicuo investimento da parte della Regione sul trasporto pubblico locale che dovrebbe fornire, nello specifico di Adria, circa 20 mezzi in più nel prossimo 2-3 anni. Questo per noi è fondamentale perché il rinnovo del parco mezzi è la base per poter avere il servizio efficiente. Ovviamente i contributi che vengono dati dalla Regione sono per una flotta i mezzi che siano più ecologici possibili perché ovviamente si va verso questa direzione. Quindi noi ci stiamo già muovendo, abbiamo già fatto tante numerose gare per l'acquisto di mezzi da qui al futuro. Ed ora cambiamo argomento. Negli ultimi giorni i cittadini della provincia di Pesaro Urbino di età superiore ai 60 anni che intendevano ricevere la terza dose del vaccino anticovid sono stati dirottati ad Ancona o Senigalia, anziché negli hub territoriali di Pesaro, Fano o Urbino. Alla base del disservizio c'è un problema tecnico della piattaforma di prenotazioni delle poste che ha creato diversi disagi a coloro che ad esempio si sono presentati al punto vaccinale del Rossini Center ma non risultavano prenotati. Asur e Area Vasta 1 hanno segnalato il malfunzionamento che si sta cercando di risolvere per riportare a regime la campagna vaccinale. Sono 100 i nuovi contagi da Covid-19 nella nostra Regione Marche a fronte di una cospicua quota di 2.895 tamponi che fa scendere dal 6 al 4,4% la percentuale quotidiana di tamponi positivi al contagio. Calano anche i ricoveri che scendono da 56 a 54 nella Regione Marche con 10 pazienti in terapia intensiva. Oggi purtroppo è stato segnalato anche un decesso, si tratta di una donna di 88 anni di Camerino. Ed ora passiamo alla cronaca. Un imprenditore di l'Estatto condannato per evasione fiscale dalla Guardia di Finanza di Urbino per non avere presentato le dichiarazioni fiscali degli anni 2010-2011. Il Tribunale di Urbino ha così disposto la confisca di beni per un ammontare di 353 mila euro divisi fra soldi dei conti correnti e quote di proprietà di sei fabbricati e sette terreni. La confisca nasce dall'esito di una verifica fiscale effettuata la ditta individuale dell'uomo, dove sono state rilevate irregolarità tali da avviare l'indagine maturata con il sequestro di denaro e beni pari all'importo delle imposte vase. Cinque arresti negli ultimi tre giorni effettuati dai carabinieri in quattro diverse operazioni delle locali stazioni di Mondavio, Cartoceto, Fossombrone e Colli al Metauro. Due giorni fa a Mondavio sono stati arrestati due giovani del posto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, dopo essere stati trovati in macchina con 65 grammi di hashish, alcune dosi di cocaina e un bilancino di precisione. Nella stessa giornata Cartoceto è stato arrestato un uomo evaso dai domiciliari, invece ieri un uomo di Fossombrone è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, dopo aver aggredito i carabinieri intervenuti per calmarlo in seguito ad una chiamata per i suoi comportamenti molesti in un bar. Infine, proprio oggi, un ragazzo di Mondolfo è stato fermato per un controllo in macchina dai carabinieri di Colli al Metauro ed è stato arrestato per essere stato trovato in possesso di oltre un chilo di marijuana. Ed ora cambiamo argomento, questo è lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni e il numero da chiamare è sempre lo stesso da chiamare oppure da usare tramite WhatsApp inviando foto o video delle cose che non vanno e delle cose che volete segnalare. Oggi diamo voce ad uno spiacevole episodio di avvelenamento di gatti avvenuto a Fossombrone, come ha spiegato ai nostri microfoni una residente del comune. Sono cinque anni che vivo a Fossombrone ed è da ieri praticamente che mi sono morte due gattine che accudivo io nella gattina ecco randage. Il motivo è stato appunto un avvelenamento. Le gattine praticamente sono state avvelenate in quanto nella ferrovia dismessa è stato messo appunto del materiale velenoso. Una è già morta, l'altra è in fase clinica. Io sono andata all'Azur, sono andata da polizia. Ragionano tutti a livello di legge e non di cuore. Uno si butta la palla sull'altro nel senso appunto nessuno si prende delle decisioni. Ci sono ancora altri gatti e sono in pericolo. Quindi io volevo denunciare questa cosa. L'indecenza e la cattiveria e il fatto che non ci sia un gattile, il fatto che non ci siano strutture e che il vecchio sindaco non abbia fatto nulla. Il gatto è considerato come una cosa e non viene assolutamente tutelato come gli animali che vengono tenuti alla catena nelle campagne. Ci sono dei gatti in pericolo e non stanno facendo niente. Non sono neanche venuti a praticamente a vedermi la zona dove la gatta appunto si è avvelenata. In quanto è avveleno proprio perché l'ho visto io, perché la gatta comunque ha buttato saliva e ha buttato una sostanza verde che si presume sia veleno per lumache che mettono questi contadini, gente anche insensibile nell'orto dove nella stazione di smessa appunto ma gli orti sono in un posto pubblico dove i gatti poverini camminano. Quindi è stato un atto più che altro voluto perché comunque come ripeto non vengono assolutamente amati e più di una volta io ho avuto delle offese proprio perché li sto accudendo. Ci sono dei gatti in pericolo. Più di così veramente non so cosa fare. Sono venuta qui a Rossini TV perché credo in questa emittente e credo che mi possiate dare una mano. Dallo scorso venerdì 15 ottobre l'asilo Alberone di Soria è stato chiuso dopo che sono stati trovati escrementi di roditori. La chiusura della struttura è stata inizialmente disposta per due soli giorni ma le operazioni di disinfestazione e messa in sicurezza si sono invece prolungate per l'intera settimana attuale con inevitabili disagi e preoccupazione per le famiglie. Tra le possibili cause infestanti, la vicinanza del fiume Foglia e il fatto che a fianco all'asilo si trovi un edificio da tempo dismesso che può avere agevolato la presenza degli animali. L'organizzazione No Profit Cleaners Team Pesaro e Marche Multiservizi organizzano per domenica 20 ottobre un'azione di pulizia dei rifiuti da via Grande Torino, strada tigua alla vitrifrigo arena che versa in pessime condizioni di digrado come vi mostrano le foto che state vedendo. Chi volesse partecipare a questa lodevole può presentarsi alle 10 al parcheggio del McDonald's munito di guanti e mascherina. In occasione del ventennale della scomparsa di Carlo Bo, sabato 23 ottobre alle ore 18 si terrà la cerimonia di presentazione della mostra Carlo Bo e Urbino 1951-2001. Nella sala giardino d'inverno del Palazzo Ducale di Urbino si presenta dunque una mostra che documenta mezzo secolo di presenza di Bo nel cuore di Urbino e il suo contributo all'espansione dell'università. Ed ora ci spostiamo a Fano perché è tutto pronto per la 33esima edizione del Fano Film Festival, la rassegna internazionale che ogni anno propone produzioni cinematografiche provenienti da tutto il mondo. L'appuntamento è per sabato 23 ottobre alla Sala Verdi del Teatro della Fortuna di Fano. Tra i premiati di quest'anno anche l'attore Francesco Montanari, noto per il ruolo del libanese nella celebre serie tv romanzo criminale. 12 anni fa non era ancora nessuno. Aveva appena realizzato un cortometraggio e decise di inviarlo soltanto a due festival, Cannes e Fano. Oggi Denis Villeneuve è uno dei registi più acclamati di Hollywood, autore visionario delle migliori pellicole di fantascienza degli ultimi anni. Basta questo a spiegare l'importanza del Fano Film Festival, passerella per i giovani talenti di oggi, in realtà i maestri di domani. Sabato 23 ottobre la 33esima edizione, una ventina le opere proiettate, tutte, come sempre, di altissima qualità. Cinema corto, cinema corto in abbondanza, c'è anche un lungometraggio perché abbiamo aperto un lungometraggio, però cinema corto al 99%, ovviamente fiction, animazione, documentari, spot, film d'arte, film provenienti dalle scuole in ogni ordine grado, questo è importante, insomma, pochissimi festival dedicano delle sezioni al cinema delle scuole. Ecco, noi lo facciamo ormai da 33 anni e poi ovviamente tutto il resto, insomma, la qualità è altissima, la provenienza dei film sono da oltre 100 nazioni, oltre 1500 i film, ripeto, provenienti da tutto il mondo, è secondo me un festival internazionale a tutto tondo. Il tutto avverrà sabato 23 ottobre con proiezioni anche pomeridiane dalle 17 alle 19 e soprattutto anche dopo cena, ovviamente, quando ci saranno proiezioni dei film vincitori e le premiazioni. Tutto avverrà all'interno della Sala Verdi, annessa al Teatro della Fortuna di Fano e quindi si va avanti lì per una giornata, diciamo, una giornatona, insomma, un pomeriggio dopo cena. Gli ospiti verranno tutti, saranno con noi, fa piacere, c'è una grande qualità, una grande qualità è autoriale e attoriale. Basti pensare che ha vinto Francesco Montanari come miglior attore. Chi è Francesco Montanari? Francesco Montanari è un grande attore italiano, giovane, che ce lo ricordiamo tutti con l'interpretazione del libanese in Romanzo Criminale. Poi c'è anche una giovanissima attrice, Ginevra Francesconi, 18enne, appena compiuti, ma già bravissima, bravissima, che verrà, sarà presente lei con tutta la famiglia, una ragazzina, proprio una ragazzina, però brava, brava, brava. Per il secondo anno consecutivo la formula del Fano Film Festival è stata compressa in attesa di una vera normalità, anche se, come per ogni film che si rispetti, è già previsto un secondo tempo. È un secondo, dopo lo scorso anno, one short day, così, lo diciamo un po' anche ironicamente, insomma, ecco. La normalità per noi erano addirittura, quando le cose andavano bene, anche 8-10 serate, perché un festival internazionale è una serata, è, diciamo, fa un po' sorridere, insomma, no? Un pomeriggio, una serata, ecco. Però l'accettiamo, l'accettiamo, ci siamo riproposti di recuperare tutti i film vincitori, ecco, quando apriranno definitivamente tutte le sale cinematografiche di Fano, perché il luogo deputato del cinema è la sala cinematografica, ecco. Quando, per esempio, anche il Masetti, che se è in ristrutturazione, chiaramente sarà agibile, prima di Natale, ovviamente, le faremo delle serate dedicate al Fano, intorno al Film Festival, no? Ancora la 33esima edizione. Coincide anche questo momento, anche con la riapertura, col 100% dei posti, dei teatri, dei cinema, quindi è un momento anche psicologicamente importante, che dà la sensazione di una ripresa, di un ritorno alla normalità. Detto questo, Fano Film Festival è un punto di riferimento, del cortometraggio, lo è per le scuole, dove c'è una sezione molto importante, dove veramente ci sono tante adesioni e tanti lavori presentati. E c'è anche nella prima fascia, quella proprio a cui è dedicato il Fano Film Festival, che anche quest'anno ha visto tanti protagonisti e in qualche modo mi piace pensare che questo non avvenga in modo banale, ma non è un fiore che nasce nel deserto, ma in realtà è un fiore che nasce nel prato, perché c'è una forte sensibilità proprio della città che ha visto anche tanti protagonisti della città stessa. E mi piace pensare che Fano Film Festival sia stato un elemento che abbia contaminato la città anche in questo senso. E chiudiamo la nostra edizione del telegiornale di oggi parlando di sport. Sono diverse le notizie sportive. I tifosi della VL non possono davvero perdersi questa sera. Chiaramente la seconda puntata di Insieme a Canestro, condotta da Marco Cadedu, la vedrete in diretta alle 21.20. sarà una puntata sicuramente molto calda alla luce di una settimana all'insegna delle dimissioni di Coach Petrovic e dell'investitura di Luca Banchi, a nuovo allenatore della VL. Ascoltiamo quindi le prime parole da tecnico biancorosso di Banchi, che è stato presentato oggi in Comune. È una situazione particolare che quindi amplifica le difficoltà di questa scelta. Trovo una squadra che ha appena iniziato il suo percorso ma che ha già vissuto dei picchi emotivi importanti, quindi a me è il compito di restituire loro fiducia e competitività in un campionato che non accetta momenti di sosta. Il mio contratto è fino a fine stagione con la volontà da parte di tutti di cercare di raggiungere il miglior livello possibile con questa squadra e poi sperare di fare contente le persone che mi hanno voluto qui e mi hanno scelto per essere qua e soprattutto la squadra dove ci sono giocatori che meritano un'attenzione particolare perché hanno delle potenzialità da valorizzare. Quindi sono tutte considerazioni che dovranno essere fatte a conclusione del mandato, ma ad oggi sono veramente concentrato sul quotidiano e quindi la possibilità ogni giorno di riuscire a ottenere qualcosa di più da questo gruppo. A noi aspetta subito una sfida durissima, andare a Venezia, giocare sul campo di una delle squadre più accreditate nel campionato, con un precedente che fa male, cioè quello di un esordio in Supercoppa che ha dimostrato le difficoltà di questa squadra a prepararsi complice a un precampionato particolare e degli equilibri ancora da trovare. Competente ed esigente e quindi questo è un motivo in più per essere capaci di soddisfare un pubblico come questo. Mi piacerebbe che questo fosse chiaro non solo a me ma anche ai miei giocatori e quindi avere l'orgoglio di difendere questi colori ma sentire anche il senso di responsabilità di farlo adeguatamente. Dal basket passiamo alla pallavolo perché ieri sera c'è stata la prima storica vittoria in Serie A1 per la Megabox Vallefoglia. Al pala Carneroli di Urbino la squadra di coach Bonafede ha battuto 3 a 1 le piemontesi di Chieri. E concludiamo con l'Ital Service che dal 27 al 30 ottobre sarà la società ospitante del main round di Champions League di calcio a 5. Si giocherà all'RDS Stadium di Rimini dove questa mattina Rossini TV ha seguito la presentazione di questo evento sportivo internazionale. L'Ital Service diventa la casa della Champions League di calcio a 5, Rimini diventa la casa europea dell'Ital Service. Una combinazione che farà sì che dal 27 al 30 ottobre l'RDS Stadium di Rimini ospiterà il main round di Champions League con l'Ital Service organizzatrice della Kermes. I pesaresi debutteranno il 27 ottobre alle 20.30 contro i russi del Tiumen. Il giorno dopo di nuovo in campo alla stessa ora con i polacchi di Pilsen per poi concludere sabato 30 ottobre alle 18 con la squadra kazaka del Caira Talmati. Un grande evento presentato oggi all'RDS Stadium che onora sia l'Ital Service che la città di Rimini. Un evento importantissimo anche difficile nella realizzazione, nella gestione. Allora la gestione iniziamo da fondo è complicatissima perché comunque organizzare un evento di Champions con tutte le procedure, con tutti i regolamenti che ci chiede la UEFA è qualcosa di veramente assurdo. Però voglio dire stiamo lavorando come ho detto anche in conferenza stampa e non tanto il Presidente perché il Presidente è un po' la facciata però ci sono dirigenti, c'è mia moglie Simona e tutti i nostri dirigenti che stanno lavorando sotto tracci in maniera molto importante, in maniera costante, assidua e quindi questo è un ringraziamento che voglio fare veramente a questa società. Detto questo è importantissimo che un ente come la UEFA che è il massimo ente europeo chieda a Little Service, quindi una società che in fin dei conti sono solo tre anni che si è affacciata sul campo europeo chieda di organizzare una Champions qui in Italia quindi vuol dire che veramente l'Ital Service è molto ben attenzionata sotto i riflettori europei e vuol dire che l'Ital Service sta diventando importante non solo a livello nazionale in questo sport ma soprattutto anche a livello europeo e quindi a questo a noi ci fa molto piacere perché ci fa capire che comunque ci stiamo muovendo bene, stiamo facendo le cose in maniera seria come abbiamo detto in conferenza stampa siamo persone semplici, persone pulite persone che però lavorano e che stanno lasciando un impronte importante alla città, alla regione e soprattutto questa volta Rimini che comunque ringraziamo perché ci ha ospitato. Allora un appello a tutto il pubblico di Rossini TV, il pubblico regionale di Rossini TV dovete approfittare di questa occasione perché a pochi chilometri abbiamo poi l'autostrada comodissima che ci porta a Rimini e soprattutto abbiamo anche dei biglietti molto economici. Sì perché allora intanto le persone che possono venire a vedere le partite l'RDS ha un numero di persone circa di 5.000 spettatori che possono entrare il 60% sono circa 3.000 quindi possono entrare a vedere questo giro di Champions League circa 2.700-2.800 persone. Abbiamo cercato di mantenere dei prezzi molto molto popolari quindi 15 euro facciamo un mini abbonamento che vale per tutte le tre giornate la singola giornata perché ci sono due partite a giornata costerà 7 euro quindi per rendere accessibile questo partite, questo girone a tutte le persone nella massima disponibilità. L'appello è quello di vedere tanta gente, di vedere il palazzetto pieno anche perché per noi vorrebbe dire vedere realizzati tutti i nostri sacrifici. È un bel momento perché c'è la voglia di vivere dall'online all'on live un momento sportivo, un momento di condivisione facciamo una struttura validissima come l'RDS Stadium in una città in cui le cose avvengono come Rimini è un momento di condivisione, di partecipazione bene che questo evento abbia scelto Rimini e Rimini è pronta a raccogliere con la sua voglia di partecipare il suo sorriso a questo evento importante. Little Service in realtà rappresenta tutta l'Italia cioè in questo caso veramente la società sportiva ha un grande onore un grande prestigio ma soprattutto anche una grande visibilità europea. Soprattutto un grande onore per una società giovane come la nostra poter rappresentare per la terza volta consecutiva il nostro paese in Champions League è un'emozione enorme. Siamo emozionati, oggi lo dicevo in conferenza stampa è una giornata di festa per noi perché davvero tutto il mondo che rappresentiamo oggi può festeggiare. Noi siamo una realtà giovane una realtà che in pochi anni è riuscita ad arrivare ai vertici in Italia e in Europa tanto che la stessa UEFA ci ha chiesto di organizzare il main round quindi davvero siamo molto molto orgogliosi. Più che l'onore abbiamo la soddisfazione dell'onore. E questa sera continuiamo a parlare di sport perché questa sera in prima serata alle 21.20 e lo ricordo in diretta ciò significa che potete partecipare potete scriverci messaggi al nostro numero di Whatsapp oppure potete commentare nella nostra diretta Facebook. Insieme a Canestro gli ospiti di questa sera saranno Ario Costa, presidente della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e Alessandro Mengucci, responsabile dei rapporti pubblico e tifoseria. E poi vi ricordiamo i nostri orari di Buongiorno Rossini la rassegna ufficiale della provincia di Pesaro Urbino che potete vedere solo su Rossini TV tutti i giorni da lunedì al sabato alle 7.20 siamo in diretta e poi le repliche delle 8.15 12.30 14.18 Ho detto davvero tutto buona serata in compagnia di Rossini TV l'appuntamento con l'informazione ricordatevi torna domani alle 7.20 e poi vi ricordatevi